Ecco il trucco che le compagnie low cost non vogliono che tu conosca. Nel mio ultimo viaggio nel cuore della Transilvania, dove vi assicuro che fa freddo, ho portato con me uno zaino spaziosissimo dove sono riuscita a far entrare di tutto. Il zaino Bitmamba, infatti, è così spazioso che non credevo rientrasse davvero nelle dimensioni. Questo zaino vi permetterà di non pagare il bagaglio a mano e quindi risparmiare decine d'euro a tratta. Taga qualcuno per svoltargli i viaggi e anche il portafoglio. Lo trovate su Amazon.